Buongiorno, benvenuti. Rivolgo un saluto a tutto il pubblico, in particolare al Presidente della Fondazione Pisa, Claudio Pugelli, al Presidente della Fondazione Teatro, Giuseppe Toscano, a Maestro Swan, che sono qui con noi. Mi compete prendere la parola per un brevissimo saluto, quanto attualmente svolgo, per un periodo limitato, le funzioni di Direttore della Scuola nell'interspazio, compreso tra l'aspettativa del Professor Beltram, già Direttore della Scuola, che è passato a un altro incarico molto prestigioso, e il nuovo Direttore Vincenzo Barone, che prenderà servizio ufficialmente fra pochi giorni. Quindi in questo approfitto, un po' per obbligo, ma anche per piacere, con grandissimo piacere di questa occasione, per rivolgervi un saluto per questo incontro, che è un incontro importante e anche gioioso, trattandosi di un evento che ha portato molta gioia, molta cultura al nostro mondo, al mondo della scuola e anche alla città. Si tratta appunto di ricordare, come sapete, di festeggiare i 50 anni dei concerti della normale, quindi una istituzione questa, che risale ormai già ben mezzo secolo di età, e tra la quale auguriamo un percorso ancora più lungo di quello che è stato compiuto. Sia per quello che ho potuto constatare personalmente nelle occasioni in cui ho partecipato ai concerti della normale, venendo da fuori, quindi essendo assolutamente estraneo a questi eventi, sia con quella curiosità e quella ingenuità che viene, che ha chi si trova di fronte a una realtà che immagina in un certo modo e invece si trova di fronte in tutte altre dimensioni. Sono stato veramente colpito dalla qualità dell'evento, dall'organizzazione, dalla grandissima partecipazione degli studenti, degli allievi della scuola e anche del pubblico in generale. Insomma, ho subito capito che si trattava di una grossa e importante realtà culturale della scuola e della città di Pisa. Quindi con grande gioia che adesso io vorrei dare la parola al prima professor Beltram, che ha avuto un ruolo importante in questi anni, perché ha contribuito a definire il quadro formale della convenzione che costituisce l'intelaiatura fondamentale di questa organizzazione dei concerti della normale e inserendolo dentro un quadro normativo e finanziario che hanno garantito e garantiscono il funzionamento ai livelli che conoscete. E poi pregherei, so che ha un po' di di ritrosia, insomma, il collega Barone, di dire anche lui qualche parola che sarà lui insomma a dover guidare per la parte che compete alla scuola il futuro dei concerti già tra poco tempo, insomma, almeno nei prossimi quattro anni. Bene, quindi ringrazio tutti e auguro a tutti un appunto tante giornate e tante serate di musica e di buon lavoro e chiedo al professor Beltram di porgere lui un saluto. Naturalmente dopo i due colleghi avranno la parola gli ospiti importanti che ho poco fa ricordato. Grazie al professor Giardina, benvenuti a tutti voi anche da parte mia. 50, già la copertina, già il numero è un bel risultato, già da sostanza a questa operazione. 50 fa capire che questa iniziativa e questa serie di concerti è un fatto reale, concreto, solido. Però non ci sono solo questi numeri, non è soltanto dalla lunghezza della vita di questa attività che deriva importanza a questo evento e deriva importanza a quest'annata. La scuola normale, quando avviò questo ciclo di concerti, lo fece un po' in solitudine. Il direttore allora era Gilberto Bernardini e la motivazione giusta, corretta, era quella di ritenere la musica come parte fondante della formazione dei nostri allievi. Col tempo questa cosa è cambiata, nel senso che si è aggiunto dell'altro, oltre alla nostra continua convinzione del valore fondante della musica per la formazione culturale dei nostri allievi, si è aggiunto un accento sempre più forte a offrire la fruizione di questi concerti, a portare questo messaggio a tutta la cittadinanza. questo processo è un processo che ha riguardato vari aspetti della scuola, come sapete, e i concerti della normale ora sono davvero una realtà che non è della normale, è una realtà che è di tutta la città, vissuta tutta la città e condivisa tutta la città, anche formalmente, anche nella sostanza, negli ultimi anni. Pisa è una città non grandissima, ma un grandissimo numero di entità al suo interno, molti atenei, molte istituzioni, molte attività culturali, molti gruppi e così via, che sono orgogliosissimi della loro individualità e poco propensi a collaborare. Beh, in questo caso le cose hanno funzionato, la collaborazione c'è stata e la Fondazione Pisa, la Fondazione Teatro e la Scuola Normale Superiore hanno saputo fare squadra negli ultimi anni, giocando il proprio ruolo al meglio, per costruire una stagione di livello con risorse utilizzate al meglio, grazie naturalmente all'attività del maestro Suono negli ultimissimi anni, per cui il maestro di incontrera e quelli che l'hanno preceduti, che hanno saputo offrire un programma interessante e valido. È recentissimo il fatto che questo messaggio sia ampliato ulteriormente. Ora, come sapete, la stagione concertistica della Normale fa parte di un progetto culturale più complesso, che vede Palazzo Blu coinvolto con le iniziative di Palazzo Blu per creare un pacchetto stimolante da diversi punti di vista che viene offerto alla città per l'annata in corso. Quindi un'evoluzione nel senso sempre di allargare, di includere e di aprire nuove prospettive che trova coronamento in questa stagione e in questo cinquantenario. Da parte mia, per l'esperienza di questi anni di direzione, approfitto di questa occasione per ringraziare ancora una volta il Presidente della Fondazione Pisa, l'Avvocato Pugelli, che ha saputo essere parte intelligente e ideale in questo tipo di iniziativa. E all'Avvocato Toscano, il Presidente della Fondazione Teatro, che ha saputo capire, essere coinvolto, svolgere la funzione, lui personalmente, la struttura della Fondazione con grande efficacia e disponibilità. Un ultimo ringraziamento, ma non il meno sentito, al Maestro Jeffrey Swan, che in questi anni ha svolto la funzione di Direttore Artistico della stagione, riuscendo appunto a mantenere tutta quella rete di contatti e di collegamenti che l'hanno resa un fatto unitario e un prodotto culturalmente articolato a disposizione della città. Quindi, riprendendo le parole insuperabili, come sempre, del Professor Giardina, una buona stagione, un buon ascolto a tutti quanti voi e un saluto con il mio nuovo cappello che ho indossato pochi giorni fa. Grazie. Il mio intervento sarà brevissimo. Voglio solo dire che la scuola normale è un posto speciale da molti punti di vista. Non ultimo il fatto che il nuovo Direttore si trova a gestire una situazione già consolidata da molti punti di vista culturali e quant'altro, ma anche dal punto di vista della musica. E l'unica cosa che io posso aggiungere, tutto quello che è stato detto, è che poiché il mandato attuale del Direttore della scuola normale è di quattro anni, conto che arriveremo sicuramente alla 54esima edizione dei concerti della normale. Non credo di dover aggiungere altro in questo momento, anche perché, diciamo, l'organizzazione degli anni precedenti e di quest'anno mi ha visto coinvolto molto marginalmente e quindi l'unico auspicio è di poter mantenere e incrementare il livello molto alto a cui questi concerti si sono posti in questi ultimi anni. E la garanzia di un impegno forte e costante in questa direzione. Grazie. Ora sì. È davvero un onore e un piacere anche essere direttore per questa occasione straordinaria di 50 anni. 50 anni è veramente, per il nostro mondo della cultura, un periodo importante e straordinario. E vorrei ringraziare poi il professor Beltram, chi mi ha dato il lavoro, quindi ho un rapporto molto particolare. Mi ricordo ancora quel giorno che ero così raffreddato che tu sei venuto a trovarmi a Venezia per parlarmi di questa possibilità e ancora sono molto grato. Sono molto eccitato dalla possibilità di collaborare anche ora col professor Barone, però sono anche molto molto grato della collaborazione col teatro, che ormai per noi è un partner in sensi completamente pieni e poi ovviamente con fondazione. Pisa che è il sostegno di cui praticamente è una sine qua non per la continuità delle nostre attività. Noi viviamo in un mondo, la società, politica, economia, anche moda, che tutto va contro le iniziative, esattamente quello che noi vogliamo fare. C'è la tendenza un po' universale di vedere meno concerti, meno spettacoli, meno mostre. E concerti, spettacoli, mostre è sempre più in mira di popolarità, di successo facile, apparecente, superficiale. Io sono particolarmente orgoglioso di constatare che noi non seguiamo questo cammino e che io ho avuto il sostegno dai miei partner che mi hanno permesso di non seguire questo e che noi continuiamo su una strada bella e piacevole, però anche impegnativo, importante, che dovrebbe commuovere, ma anche dovrebbe far pensare. Per esempio, senza ora che andrò in particolare per tutti i concetti della stagione, ma se voi guardate bene, la presenza di musica del Novecento, anche del nostro secolo, è molto, molto massiccia. Non è mai stato forse così presente, anche se in Contrera faceva anche moltissimo. E questo non solo con la presenza, per esempio, di Sentieri Selvaggi, che tornano che il gruppo complesso delle musee contemporanee è più importante in Italia, ma anche io ho, parlando con i vari artisti che vengono anche tra quelli che sono tradizionali, ho sempre mirato verso una programmazione di sfida, una programmazione non per essere difficile, per essere difficile, ma per far pensare e per creare un senso di impegno importante e culturale. Perché, sì, questa è una serie di concerti, ma è anche una serie di concerti nell'ambito della scuola normale, che rappresenta, secondo me, la creme della creme di quello che è la cultura europea, e la città di Pisa, un gioiello rinascimentale, visto da un americano, quindi visto magari con occhi un po' diversi dei vostri, e con tutte le tradizioni, non solo di bellezza, ma anche di impegno. Non per caso, questa è la città di Galileo, eccetera. Quindi, sono molto contento di questo, e sono molto contento che le situazioni mi abbiano permesso di seguire questa strada, che è la cosa più importante, e che io spero nel futuro poter allargare ancora le attività. Innanzitutto, in quanto riguarda il coinvolgimento di studenti, di allievi, che vorrei aggiungere ancora dei incontri tra gli artisti e gli allievi, forse a un livello meno ufficiale e più intimo, e poi anche per le altre attività, gli altri livelli di attività della scuola normale. Ma questo ne parleremo. Ora parliamo un pochettino della stagione. Una differenza quest'anno tra, almeno nei ultimi anni, nei miei ultimi anni, ma anche nel passato, spesso il concerto di inaugurazione era un concerto orchestrale, e spesso anche un concerto di musica antica. E quest'anno, per motivo molto particolare, invece ho preferito prendere i grandi solisti, i grandi solisti quanto la Victoria Mulova con la Katia Labec, che è ovviamente un duo veramente eccellente, in parte perché erano disponibili. Ecco, questo gruppo di musica antica, internazionale, forse più importante, e che è stato un elemento indispensabile nella scoperta, nella rivalutazione, innanzitutto del barocco francese, sotto la guida di William Christie, che è uno dei personaggi protagonisti più assoluti e più che io personalmente ammiro nel mondo della musica, anche se è una musica completamente diversa della mia, è un altro mondo. e quindi loro avevano questa data solo verso la fine della stagione, quindi ho preferito mettere loro quando potevamo e cominciare con questo concerto dalla Mulova con Katia Labec. Però anche lì, tutt'altro che un programma popolare, diciamo, sì, insomma, suonate di Schumann è caldo, bello, però è poi la sonata di Ravel con tutti gli elementi di jazz, che poi loro fanno benissimo, sai, con charme, con coinvolgimento straordinario. Però è anche un problema, anche un programma molto impegnativo, con pezzi nuovi di Takamitsu, di Avropert, e poi questa sonata per Prokofi di Vino Solo, che è un esplode straordinario che fa la vittoria come nessuno. Ovviamente di questo concerto, e anche in particolare del tematico della stagione, parlerò nella mia conferenza il 17. In breve, il tematico quest'anno non è un tema particolare che riguarda un aspetto anche culturale o altro, storico, o una data come quell'anno quando l'abbiamo fatto per festeggiare o per commemorare piuttosto la Prima Guerra Mondiale, ma invece un elemento proprio della musica stessa, la musica che organizza il tempo e di guardare un po' attraverso i nostri programmi i modi molto vari che i compositori, attraverso la storia, hanno organizzato il tempo per creare un'esperienza musicale. E già in questo primo programma vediamo per esempio tre sonate, sonate di Ravel, sonate di Schumann, sonate di Prokofiev, e quindi sonate con certe pretese in particolare, però con un senso formale assolutamente diverso, e di quello ovviamente parlerò anche la sera del 17. Poi il secondo concerto segue il mio desiderio, che anche era quello di incontrare, il desiderio di presentare qui quelli che io considero come i grandi talenti in arrivo. Questa pianista italiana Beatrice Irana, che ha avuto un premio importante al concorso Van Klyburn negli Stati Uniti, è una giovane stella veramente che impressiona non solo per la bravura e per il virtuosismo, ma forse innanzitutto per l'intelligenza e per la simpatia anche. E poi non ho resistito perché siccome io volevo sonare nei miei programmi le variazioni di Abeli, di Beethoven, avere qualcuno che proponeva anche le variazioni Gober, così, avere in una stagione le due cime più alte possibile nel mondo delle variazioni, anche che storicamente sono collegate, questo per me era anche irresistibile. Quindi sono molto molto contento che questa sia la prima apparizione che ha 23-24 anni, quindi giovanissima, e sono sicuro che sarà una grande scoperta anche per voi. Il terzo programma è, forse, se io dovessi andare a un solo concerto tutta la stagione, ovviamente a parte i miei, per forza, andrei a questo qua per la mia passione per Pust, e questo anche rappresenta un aspetto che per me personalmente è indispensabile in questi concerti, perché il fatto di essere in una serie di concerti organizzati nell'ambito di una scuola, con anche la partecipazione di un teatro, mi richiede quasi questo senso interdisciplinare, di trovare modi di trovare la possibilità di coinvolgere altre forme di arte. E questo programma ispirato da Pust, con letture di Pust, con musica collegata e con letture, mi seduce completamente. Appena ho avuto contatto con l'agenzia di questo gruppo sono rimasto assolutamente, poi conosco i performer, sarà veramente una serata straordinaria. Magari questa è una serata che sarebbe valso avere anche una conferenza, purtroppo il problema della conferenza è che devono parlare l'italiano, e siccome è una serie internazionale non è sempre possibile. Beatrice, per esempio, parlerà delle Goldberg, perché lei è da giovane italiana, e mi piace in particolare invitare i più giovani a parlare, perché i più giovani lei ha la stessa età dalla maggior parte dei allievi della scuola, quindi c'è una comunicazione molto diretta. Poi abbiamo tutta la serie dei concerti dell'orchestra della Toscana, per questa collaborazione noi siamo molto felici e molto fieri, anche perché ci dà la possibilità di avere anche concerti sinfonici nell'ambito della stagione, con un'orchestra sempre eccellente, di altissima qualità, e che ci propongono programmi sempre molto interessanti. Quest'anno programmi per la maggior parte cameristiche e verso il vario classico, ma anche questo va bene perché crea un bel equilibrio tra il resto della programmazione. Questo primo programma, come tutti gli altri, secondo me è molto bello e molto valido. Poi il 13 dicembre torna il quintetto Bartoldi, sono già venuti tre anni fa e sono molto molto piaciuti. Non sono molti i quintetti, le formazioni di quintetto, però invece è un territorio straordinario. Tre anni fa suonarono un quintetto meraviglioso di Mozart, quest'anno suonano, e di Bruch che hanno suonato, quest'anno invece suonano Brahms e Mendelssohn. Poi però ho voluto specificamente anche che suonassero anche un pezzo moderno, suonano questo pezzo di compositore tedesco Robert Kramp, che è molto molto interessante, ho la patitura e credo che sarà veramente un concerto interessante. E poi subito prima di, dopo Natale, all'inizio dell'anno, ricominciamo con il concerto di Sentieri Selvaggi. Anche loro tornano, credo, sono già stati una volta per me, ma anche prima venivano. Ma questo è il complesso italiano di musica contemporanea, forse più in vista, poi con la direzione di Boccadoro, che è un personaggio che è stato poi assessore agricoltura di Milano, è un personaggio di altissimo livello e che loro fanno, è come anche questo programma di musica recentissima, la maggior parte è anche americana, scritto, di compatriotti miei. Però un programma alla volta di grande impegno, cioè sarà una certa sfiducia, però anche di ascolto allegro, un concetto allegro, non per niente accademico, pedantico, eccetera, eccetera. Non dovete avere paura di questo programma, sarà sicuramente molto, molto divertente, a parte molto impegnativo e quello è anche importante. Non bisogna mai spaventare troppo il pubblico. Buona regola. Poi abbiamo un altro concerto della D'Orchestra Toscana, ma questa volta molto francese, insomma, con Forêt e Ibert, anche quello è molto, molto bello. Poi abbiamo, come sempre, la collaborazione col teatro, quest'anno con un'opera di Nino Rota e questo sono molto curioso a vedere come va, ma secondo me io non conosco quest'opera, ma sono molto contento della possibilità di averla inserita nella nostra programmazione. Poi abbiamo, come ci vogliono anche i grossi nomi del mondo tra i grandi solisti, la Mulova, la Labecco ovviamente, e poi abbiamo invece il grande protagonista del violoncello italiano e internazionale, Mario Brunello, che è venuto qua l'ultima volta, credo, tre anni fa, che suonò con Hurricane, a pianoforte, un programma crossover tra jazz e barocco, e questa volta invece suona con il suo partner più normale, Andrea Luccasini, anche lui un grande, grande pianista, direttore della scuola di Fiesole, vincitore del concorso Ciani, come io ero in giuria quando vinse, è un pianista veramente straordinario, poi intelligente, e poi fanno un programma molto interessante, posso dire che non c'è neanche un solo pezzo del programma che sia comune o che va da Filippo Emanuele Bach a Grieg, la sonata di Grieg è bellissima, quello veramente, però non si sente spesso, poi Solima e Schnitt, che è quindi una bella presenza anche di musica del Novecento, questo programma, questo è evidentemente un programma da non mancare, poi Brunello è veramente uno dei grandi protagonisti della cultura italiana, della cultura in Italia e dell'immagine italiana nel mondo intero. Poi viene un altro gruppo di giovani, il Quattietto di Cremona, che ho sentito, che mi sono piaciuti moltissimi, che fanno anche loro un programma molto interessante perché accoppiamento tra Beethoven e Shostakovich, due dei grandi compositori per la formazione di Quattienti d'Arco, e questi giovani che suonano con molto slancio, con molta passione, secondo me sarà anche un bellissimo programma, poi viene un, non so chi è costui, questo Jeffrey Swan, che suonerò ormai i miei due soliti programmi con le conferenze, si chiamano le forme musicali, strategie e visioni, e parlerò molto specificamente delle varie forme musicali, forme sonate, forme variazioni, le forme programmatiche, le forme aperte, le forme chiuse, insomma vari modi di organizzare il tempo, e quindi quest'anno va da Heidne a Bules e da Bach alle variazioni di Abel e di Beethoven, quindi sono programmi molto impegnativi per me, ma spero di grande piacere e interesse per voi. Poi abbiamo l'ultimo concetto dell'Orchestra Toscana, anche ancora con Jacques Ibert, che bello, due pezzi di Ibert in una stagione è già quasi un record, e poi con la Jupiter di Mozart, quello ovviamente è sempre una cosa da non perdere mai, l'occasione di sentire. Poi un concetto interessantissimo che avremmo dovuto, voluto fare l'anno scorso, quando avevamo questa tematica di Faust e il mito del genio romantico, perché questo duopianistico Giuseppe Bruno e Vincenzo Maxia suoneranno due grandi capolavori orchestrali su Faust in trascrizione, prima la Faust Overture di Wagner, che è un pezzo piuttosto breve, invece poi la Faust Sinfoni di Liszt, che è il suo capolavoro, un pezzo molto importante, che nella trascrizione per i due pianoforti di Liszt stesso, e questo, l'arte della trascrizione per moltissimi anni veniva un po' considerato come non degno della sala di concerto, insomma come qualcosa di quasi kitsch, molto ottocentesco, che poi Liszt lo faceva solo per comodità, anche per vendere più la musica, eccetera, eccetera, però non è così, anche sono molto interessanti, per esempio, quando si sente il sacro du printon nella versione di Stravinsky per due pianoforti o per quattro mani, ovviamente non può rappresentare la versione originale orchestrale, per carità, però si sentono tante cose, tanti elementi, tanti dettagli che nel complesso orchestrale non si sentono, che diventa veramente come una grande lezione, cioè che spesso, per esempio, anche un pezzo come la Faux Symphony potrebbe essere una rivelazione, quindi sono molto contento anche di questo programma. Poi abbiamo quello che per me è un vero privilegio di poter presentare qui l'Esa Florissant, è un programma tutto Monteverdi, Monteverdi a Mantova, è vero che è un complesso conosciuto innanzitutto per i barocchi francesi, per Chaupontier, Lulli, eccetera, eccetera, però anche per il rinascimento barocco italiano, Monteverdi è forse il più grande composito italiano di tutti i tempi, se volete impicarmi dopo potete anche, ma per me è il più grande, e quindi questo è un programma straordinario e che sarà certamente bellissimo e anche stilisticamente molto molto valido. L'Esa Florissant sono considerati in tutto il mondo come veramente il miglior elemento del settore. E poi finiamo come sempre con un concetto del nostro coro, il coro Galilei, e che anche loro fanno Monteverdi. È molto bello finire con due Monteverdi sacro dopo i Monteverdi, molto profano, profano, Monteverdi significa molto profano, perché è quasi pornografico qualche volta nei testi, quindi finiamo in grande bellezza italiana. Ecco, ho finito per la stagione, vi auguro tutti un buon ascolto, innanzitutto una buona partecipazione, dico come ho sempre detto che io sento sempre molto volentieri i vostri commenti, se voi non siete contenti, o se siete contenti sono contento anche di sapere, così magari per il futuro cercherò di... ovviamente non si può mai soddisfare tutti, ci sarà che vuole solo Beethoven, ci sarà che vuole solo Barocca, però io cerco di fare una programmazione varia, interessante, impegnativa, valida e bella. Ecco, grazie. Grazie.